Lavorano con tensione e incertezza e non avendo risposte dall'azienda sull'assenza di commesse. Per questo hanno deciso di aderire le cinque giornate di sciopero proclamate dalle RSU delle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e Wilm. Sono i lavoratori e le lavoratrici della L Foundry di Avezzano, azienda che opera nello sviluppo e nella produzione dei semiconduttori. L'adesione ha sfiorato l'80% e a dare sostegno al personale della L Foundry. Nelle scorse ore è arrivata l'assessora regionale al lavoro, Tiziana Magnacca. Insieme a lei le due consigliere regionali, Marianna Scoccia e Maria Assunta Rossi. L'esponente della Giunta Marsilio ha ricevuto la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali di perorare un incontro al Ministero. In attesa che si svolgano i tavoli tecnici in Regione e al Ministero, siamo accanto alle richieste di chiarimento dei lavoratori per fare in modo che un'azienda che possiamo considerare strategica per il tessuto produttivo regionale si esprima e ci rassicuri circa la permanenza, gli investimenti e la continuità produttiva proprio qui in Abruzzo.